Buongiorno a tutti, io sono Daniele Tonarelli e sono un maestro liutaio cremonese. Sono nato e cresciuto a Cremona, all'ombra del Torrazzo. Qua siamo oggi nel mio laboratorio, dove io costruisco i miei violini, viole e violoncelli, come da tradizione cremonese. Quest'anno celebro il mio venticinquesimo anniversario di attività e per l'occasione di Cremona Musica, nel mio stand il numero 135, presenterò il mio quartetto d'archi, costruito proprio per questa occasione. Due violini, una viola e un violoncello, tutti costruiti con il legno della stessa pianta e su base di modello Stradivari. Per l'occasione ovviamente sarà possibile provare anche altri miei strumenti. Ho proprio qui ad esempio una delle mie ultime opere, ovvero un violino costruito su modello Guadagnini, uno dei miei modelli preferiti ed apprezzati dai miei clienti negli ultimi anni. Proprio per questa occasione ho chiamato anche un violinista, il maestro Alessandro Ceravolo, che adesso ci allieterà con un brano suonato esattamente su questo violino. Vi aspetto tutti numerosi a Cremona Musica nel mio stand. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.